Kurt Svitzers, 1887-1948, fu pittore più estesamente artista tedesco vicino al dadaismo. Anticipò la pratica della performance e delle installazioni, ma scrisse anche racconti, favole, satire e poesia con tecnica sperimentale nel segno della grande innovazione. Usava le parole come fossero materiale plastico da scomporre e ricomporre secondo un'ispirazione di libertà assoluta. I due brevi racconti che qui vengono proposti evidenziano la sua vena ironica e umoristica, accompagnata da una concisione inventiva profondamente antiborghese. Purtroppo, nella traduzione, molto si perde di dialoghi dalle ritmate sfumature dialettali e gergali. La società di esseri in mani gretti e solitari che gli descrive mostra la miseria spirituale e la nevrosi del tempo moderno, in cui la vita non può che essere artisticamente sottolineata, mediante una affilata vena grottesca e satirica. L'uso della lingua è molto elaborato, con tagli e cuciture del gergo quotidiano. Anche il grassetto tipografico serve ad accentuare la prova stilistico-recitativa del performer e attore Kurt Schweitzters. I disegni di Max Ernst accompagnavano la prima edizione a stampa e avevano il titolo Fiat Modus Pereat Ars, mentre l'illustrazione in copertina riporta come titolo Portrait de l'Eroine.